Ciao ragazze, bentornati al nuovo video, questo qui sarà appunto il video del pacco della Germania Allora vi faccio vedere subito perché ve l'avevo promesso su Instagram ma come vedete insomma il tempo non è che sia proprio dei migliori per registrare il video Perché comunque non sono a casa e quindi anche la luce insomma sfalza parecchio, però ci provo Allora che cosa c'è in questo pacco? Io ho già sbocciato qualcosa quindi non sono proprio ancora intatti Però non resisteva e quindi perché l'ho risolto tre giorni fa e quindi li vedrete sicuramente così Però vale la pena fare lo stesso il video Allora innanzitutto ci sono queste due creme che non sono mie, sono di Enzo a cui mando un bacione grande Sono per pelli secche, sono un toccasana, ho sentito dire, le volevo provare e quindi sono arrivate Poi, collezione Hello Autumn che da una appunto era già uscita tantissimo tempo fa Però non era uscito appunto il pennello da ombretto, quello piatto e quindi me lo sono fatta prendere Grazie appunto alla mia amica che è riuscita a trovarlo Poi, di una collezione che praticamente qui non esiste È la Rival Deloupe, la collezione si chiama Glam Sensation Ho preso questa palettina che praticamente credo sia venduta in esclusiva per Muller Ma non sono sicura I colori sono questi, sono comunque dei toni molto autunnali Con il lil, il bianco, il pesca, i due top e questo marrone un po' più caldo Devo dire che mi piacciono tantissimo come colori Però appunto vedremo poi come si comporterà Poi c'è questa BB Cream di Maybelline Quindi la Dream Fresh 8 in 1 È il Blush, il Dream Bouncy Io ce n'ho un'altra che se vi ricordate è sempre presa appunto in Germania Questa qui però sarà per la mia collega la BB Cream Invece il blush lo darò io Perché tanto lei non lo usa Poi, della collezione Good Girl, Bad Girl Ho preso questo blush Dicono che appunto non sia molto pigmentato Però comunque a me faceva piacere provarlo E quindi ho voluto prenderlo È questo qui Molto carino anche come si presenta con la gialdina E ve lo faccio vedere così a meno vediamo com'è È questo color rosa salmone appunto È un po' polverosino Ma in realtà appunto è molto poco scrivente Non so se è riuscito a vederlo Eccolo Comunque si vede appena Quindi magari più consigliato appunto per le carnagioni molto chiare Tipo appunto come la mia E non per le carnagioni scure Poi, nella stessa collezione Ho scelto di prendere appunto da provare l'eyeliner Che è questo qui Quello fatto appunto a tre punte Che ora vi faccio vedere È questo qui Ecco così si vede meglio E vi faccio vedere com'è Questo è il tratto È un bel nero Ora non resta solo che appunto provarlo per vedere appunto come sarà Ed è ispirato comunque a quelli più costosi Tipo come Clarins Come Benefit Fatto appunto Con queste tre puntine E poi Sempre della stessa collezione Gli elastici per capelli Quindi questi qui con le stelline appunto Molto molto carini Poi ci sono tre Smalti Che sono questi qui Che ora vi faccio vedere meglio Allora questo qui Che è lo 06 Ed è Snake Effect Che è un fucsia Questo qui Che è il Metallic Effect Lo 01 Questo lilla grigio E poi c'è questo qui Che è il Glitter Effect Che è il numero 05 Che è questo viola bellissimo Che è quello che appunto avevo io qui Ma che vedete Ora è da cambiare lo smalto Perché sono passati tanti giorni Ma comunque è molto molto carino Devo dire E merita appunto tantissimo Poi ho preso Allora mettiamoli qui Sono in una posizione molto scomoda Poi di questa collezione C'è sempre due rossetti Tutti e due appunto quelli usciti E praticamente sono Questo qui Che è lo 01 Che praticamente a vederlo È nero Cioè proprio nero Però in realtà Una volta appunto Steso Vedete questo prugna Violaceo Molto scuro Molto forte Ovviamente non è un rossetto Per tutti i giorni Però vedo che comunque Non è molto omogeneo Omogeneo nella stesura Quindi vedremo poi Come si comporterà E poi questo qui Che è il mio preferito Che l'ho sbocciato ieri E mi piace tantissimo Che è appunto Questo bellissimo Fucsia Che è questo qui Vedete Questo già A differenza di quello Vedete È molto più Omogeneo Nella stesura E si vede E si vede Lontano Un miglio Poi Di questa collezione Penso non c'era più nulla Sì Poi c'era questo rossetto Della collezione limitata Lala Berlin For Catrice Lo 02 Rude Red Che è un matte lip color Ed è bellissimo Questo colore Guardate È una scrivenza pazzesca Veramente Guardate che bello È stupendo Veramente Anche un odore buono Poi Aspettate se non mi cade tutto Qui Poi c'è praticamente Di Alverde Che è questo brand Appunto Che si trova da DM Con un buon ince A quanto pare È questo qui Che è un trio Blush È il 10 Secret Rose Infatti Ha un profumo Buonissimo Di rosa E praticamente Sto leggendo Che contiene Anche olio di macadamia Bio Quindi Sarà sicuramente Bellissimo E questo qui Non vedo l'ora Appunto Di usarlo Perché veramente Era un prodotto Che volevo Proprio Da quando l'ho visto Cioè Mi ero innamorata Poi c'è Della collezione Mountain Calling Che appunto È quella che non uscirà Da noi Ma che si può trovare Appunto online Questa palette E questo blush Allora Il blush L'ho già sbocciato Perché non ho resistito Ed è questo qui È un cream to powder Quindi molto vicino A quelli di Catrice A quelli che fa Appunto sempre Catrice Cremoso Ma che si trasforma Appunto in polvere Ve lo faccio vedere Qui È bellissimo È vira Tipo sul Sul rosa Comunque Una volta steso Non è ovviamente Così rosso Poi c'era Appunto La palettina Che quando si apre Allora Fuori è così Faccio vedere Prima l'esterno E poi Vedete Qui è tipo Sollevate C'è questo disegno Vedete Fatto così Di questa appunto Baita Innevata Con questi alberi Molto molto carina Devo dire E i colori Aspettate che vi levo La plastichina Se no comunque Sfalzano Sono questi qui C'è questo blu scuro Questo azzurro Questo verde scuro Marroncino Avorio E bianco Perlato Molto molto carini Devo dire Mi piacciono molto Vedremo poi Come si Si comporteranno Poi c'è Ah Della collezione Sempre Bad Girl Che mi ero dimenticata Appunto A farvi vedere C'era anche la palettina Che è questa qui Con questi toni Fucsia Nero Viola Oro Molto molto carina Vedremo poi Come si Si comporterà Nel senso Come sarà Di scrivenza E tutto Nel frattempo Qui vedo cambiare La luce Ma Boh Vabbè Speriamo Si veda qualcosa Poi C'era Questo pennello Di Zoeva Che è il numero 2 e 27 Che è praticamente Il pennello Da sfumatura Simil Mac Simil il 2 e 17 Questi capelli Oggi non c'è verso Di metterli A bada Dico io Ed è appunto Questo qui Che volevo provare Da tanto tempo Ed era Vedete c'è scritto Exclusive For Cosmopolitan Si Perché appunto Era contenuto In questo mensile Quindi era Un'esclusiva Insomma del giornale Mettiamola così Poi Praticamente C'è Questi 2 blush Della collezione Di San Valentino Quindi Like Unforgettable Kiss Questi duo Che Questo qui Ve l'ho già Sbocciata Questa collezione Quasi tutta Sul blog Quindi se vi interessa Andate a vedere L'articolo lì E infatti Questi qui Non li toccherò Perché Non so Vedremo Allora C'è questo qui Che è rosa Appunto Rosa è La parte più chiara Tipo illuminante E questo qui Che invece È sul pesca Vedete Rosa pesca Con appunto La parte sempre chiara E Sempre della collezione C'era anche il pennello Quello lì Fatto A cuore Eccolo qui Questo qui Che si chiama Blush brush Sì E niente Ed è questo qui Appunto Molto molto carino Che io già Mi piace tantissimo Proprio tanto Tanto L'unica cosa Fa puzza un po' Nella confezione Però poi Quando lo lavate L'odore Non si sentirà più Poi c'è Praticamente Questa crema Di Balea Che è una crema Appunto Con un ingi ottimo Si chiama My golden Twenties È praticamente Una crema Per viso Mani E labbra Fatta in questa Confezione di latta Ed è un 30 ml Poi c'era Questo rossetto Di Primark Sì Primark Era Sì Che praticamente È un Questo l'ho già sbocciato Prima Perché appunto Non ho resistito Ed è appunto Un color Che vira al marrone Ma sembrerebbe Tipo uno stile Color Marsala Che va appunto Quest'anno Che vira un po' Perché non è Né un nude Né un rosato Né un marroncino Quindi sembrerebbe Molto in quello stile È un matte Quindi matte Long lasting lipstick Fatto così Appunto Della linea Di Primark Beauty Poi C'è questo qui Che è La base Intensiva Quella Appunto Endurente Della P2 Che sono Super curiosa Di provare È grandissima 10 ml Quindi Siccome avevo finito Quasi la base Questa qui Ne ho sentito Parlare benissimo Speriamo sia Valida Ma non ho dubbi E poi c'è Questa qui Che è una Canossa Sperando di non sporcarla Sempre di Di Primark Appunto Che è fatta così Praticamente Allo scollo Così E poi Dietro Praticamente Vedete Finisce così Un po' più lunga Un po' più corta Davanti Con questa balza Così Appunto Vedo Non vedo È comunque Molto molto carina Rosa E appunto È di Di Primark Che non vedo l'ora Appunto Di metterla E poi Vi farò vedere Appunto Su Instagram Quindi Questo appunto Era il contenuto Del pacco Della Germania E niente Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao